Contro il Molise conservatore e senile, nasce il forum della sinistra giovanile. Il Molise è conservatore e senile. A Campobasso ci sono oltre 10 centri sociali per anziani finanziati con denaro pubblico, mentre i giovani residenti, il 25% della popolazione, sono costretti a socializzare per strada, piazzetta, villa dei cannoni, senza nemmeno il beneficio dei portici, in una città che ne è sguarnita. La nostra classe dirigente odia subdolamente i giovani, dei quali teme la fisiologica propensione al cambiamento. Cerca di retirli ravanando nel loro fondamentale diritto negato, quello al lavoro. Oltre alle chiacchiere propalate sulle politiche attive della regione, quello che resta sono gli effimeri co-co-co, amministrati e gestiti con oculatezza politica dal decisore di turno, per alimentare la rete clientelare, anima e basamento del blocco sociale conservatore che domina, non governa, domina questa regione. In questo panorama disperante, ieri, nella sede dei comunisti italiani di Via Ferrari a Campobasso, è stato presentato il forum della Sinistra Giovanile, che raggruppa le federazioni giovanili dei partiti di centrosinistra. Per tutti hanno parlato Davide Vitiello, del PD, Andrea Vertolo, della FIGC, e Gianluca Cagliazzo, di SEL. Hanno illustrato le loro proposte, centrate con lungimiranza sull'economia di terzo settore e hanno dichiarato di voler lavorare al rinnovamento della politica partendo dai partiti della loro appartenenza. Noi, dal canto nostro, salutiamo questa iniziativa con un augurio militante che ci mette a disposizione totale di questa iniziativa strategica e civile sulla quale è incentrato, da punti di vista differenti, il futuro della nostra comunità.